È una giornata importante che valorizza un pezzo del Colosseo, i piani più alti a 40 metri dall'arena d'altezza che non erano visitabili da 40 anni, è stato fatto un restauro importante. Il percorso di valorizzazione del Colosseo Andravanti è finanziato come sapete il progetto dell'arena che sta procedendo e questo renderà ancora più spettacolare la visita al Colosseo e la valorizzazione di questo monumento che è davvero il simbolo dell'Italia nel mondo.